Benvenuti al quiz Conosci il significato delle parole. Testa la tua conoscenza del vocabolario italiano. Ogni risposta corretta vale un punto. Commenta il tuo risultato sommando il numero di risposte corrette su 100. Cosa significa anacronismo? Cuoritempo storico. Cosa significa eretico? Dissidente. Cosa significa ambrosia? Cibo celeste. Che cosa significa retorica? Persuasione attraverso linguaggio. Cosa significa peripetia? Svolta improvvisa. Cosa significa acromatico? Senza colori. Cosa significa equivoco? Malinteso. Cosa significa polifonia? Molteplici voci. Cosa significa dogmatico? Intollerante. Cosa significa empatia? Capacità di comprendere e condividere i sentimenti altrui. Cosa significa effimero? Qualcosa di temporaneo. Cosa significa iconoclasta? Destrugge icone religiose. Cosa significa perspicace? Intuitivo. Cosa significa infausto? Sfortunato. Cosa significa sinergia? Coordinazione. Cosa significa un eufemismo? Una parola che ammorbidisce la realtà. Cosa significa imperscrutabile? Misteriosa. Cosa significa premonizione? Visione del futuro. Cosa significa antitesi? Contrario. Cosa significa apoteosi? Elevazione al rango divino. Alla partita. 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 T hydrated. V vibes da in. V vibes. V vibes. Grazie a tutti.